anche perché intanto vi ringraziamo della presenza e vi ringraziamo anche della vostra stessa puntualità. Mi corre l'obbligo di raccontare chi siete voi. Qui tra di voi ci sono molti medici, molti ricercatori, molte persone che hanno nella loro vita dato proprio anima a una responsabilità impegnativa e forte nel creare associazioni che si sono prese carico di tematiche relative alle malattie rare. Quindi ci sono persone che anche appunto dietro a questo tavolo dal piano politico hanno assunto degli impegni molto precisi e molto concreti e dietro a questo tavolo trovate diverse anime politiche per cui non c'è nemmeno bisogno di dirvi a quale appartenenza politica ognuno di noi faccia riferimento perché siamo qua come il concetto di una buona politica che decide di interagire positivamente con un problema vero, con un problema concreto approfittando della giornata di oggi che è la giornata delle malattie rare per dare alla politica lo spessore, la concretezza e il valore di una responsabilità che si declina nell'esclusivo interesse dei pazienti. Insieme alla collega Baio a cui terrò la parola quasi subito perché il Senato è impegnato e stanno votando in questo momento il decreto sulle liberalizzazioni di cui tutti sapete tutto perché sono piene le prime pagine dei giornali il senso di questo intergruppo questo intergruppo che nasce a un anno dalla fine della legislatura tenendo conto di quelli che sono i tempi della politica saluto la carissima collega Ileana Argentin che è qui con noi questo intergruppo si propone di creare un primo canale istituzionale forte che insieme potremmo come dire strutturare in un certo modo per poter offrire alla prossima legislatura uno strumento già pronto dal primo momento in cui si insedierà non è affatto detto che noi ci siamo qualcuno ci spera, qualcuno dice concludo un'esperienza però la cosa fondamentale è che ci sia già lo strumento di comunicazione unitario, condiviso, trasversale, bipartisan e bicamerale questo è un obiettivo importante poi il secondo obiettivo di questo intergruppo è quello recentissimamente verso l'11 di gennaio al Senato e il 17 di gennaio, cosa che ricordo con più concretezza alla Camera abbiamo approvato il Governo noi abbiamo votato e il Governo ha dato parere positivo a una mozione unitaria in quella mozione c'era tutta una lista di impegni sarà il nostro obiettivo in questo anno che resta di legislatura incalzare il Governo perché ha quegli impegni dia concretezza e quelle cose che ha scelto di condividere perché avrebbe potuto dire sì alla mozione però no a questo punto, no a quest'altro punto viceversa tutto ciò a cui ha dato parere favorevole lo traduca operativamente in iniziative concrete il messaggio che abbiamo ricevuto da moltissimi di voi è non parole ma fatti il messaggio più grosso che ci viene in questo momento nel dialogo con la cittadinanza o comunque con il Paese è quello basta parole della politica dalla politica chiediamo fatti concreti e questo è quello che noi vogliamo offrire alla politica e questo è il secondo punto il terzo punto se è possibile in un momento come questo in cui notoriamente voi lo leggete tutti i giorni sui giornali ma molti di voi lo sperimentano sulla propria pelle sia che siano dei professionisti sia che siano responsabili di associazione sia che abbiano in qualche modo una parte in questo variegato e ricchissimo mondo del volontariato che opera a supporto delle malattie rare voi sapete che questi tagli micidiali, bestiali a cui si sta andando incontro in questo momento penalizzano soprattutto le persone che sono più sole più fragili e più in difficoltà e quindi noi vogliamo che attraverso questa iniziativa attraverso anche quello che significa rafforzare le reti di solidarietà facilitare la possibilità di mettere in comunicazione tra di loro i diversi mondi tutto questo possa tradursi in una risposta positiva, concreta oggi ai bisogni delle famiglie quindi interventi a favore della ricerca se ci riusciamo sarà una delle nostre motivazioni dominanti perché non c'è sviluppo in un paese se non c'è uno sviluppo che parta anche dalla ricerca in campo farmaceutico dalla ricerca nei famosi farmaci orfani dalla ricerca in tutto questo grande e complesso mondo delle malattie rare quindi supporta la ricerca, supporta l'assistenza, supporta le politiche sociali dialogo tra di noi per poter dialogare con voi questi sono i punti fondamentali in questo momento del nostro intergruppo e come ho già detto la prima parola alla collega Baio che svolge in Senato una funzione analoga a quella che svolgiamo alla Camera proprio per mantenere un tandem proprio di comunicazione efficace ringrazio anch'io tutti voi anche dell'accoglienza calorosa che ha riscontrato questa conferenza stampa anzi alcune persone ci hanno scritto che non potevano essere presente ma idealmente lo erano non potevano perché magari avevano impegni di carattere professionale o all'interno delle diverse associazioni di volontariato Paola ha spiegato molto molto bene le finalità di questo intergruppo noi poi dobbiamo andare salutiamo anche i colleghi Castagnetti e Burtone poi noi senatori dobbiamo andare in aula perché si sta cominciando a discutere il decreto liberalizzazioni sarà presentata una pregiudiziale del nostro dovere essere la votare a sostenere il governo aggiungo solo questa osservazione accanto a quelle di Paola questo governo tecnico politico sta dimostrando una nonostante la difficoltà di carattere finanziario del nostro Paese sta dimostrando una attenzione al tema delle malattie rare quando il ministro Balduzzi è venuto in aula per discutere al Senato e poi alla Camera le diverse mozioni poi congiunte in un'unica mozione anche questo è positivo perché erano state presentate trasversalmente diverse mozioni e poi si è riusciti a fare una sintesi così da avere degli obiettivi ben precisi sui quali si è impegnato il governo il ministro ha riconosciuto due punti uno la difficoltà oggi per il nostro Paese di aggiornare i livelli essenziali di assistenza lui con un sorriso sulle labbra ha detto in fondo è da più anni che l'aggiornamento giace nei cassetti dei diversi ministri che si sono susseguiti voi capite la difficoltà di fronte alle carenze finanziarie di aggiornare i livelli essenziali accanto a questa costatazione amara lui però non si è sottratto dall'assumersi un impegno preciso noi oggi insieme visto che l'aula del Senato votava all'unanimità la mozione dobbiamo assumerci degli impegni che non sono gli impegni di affrontare e risolvere il problema come vorremmo che venisse risolto però sicuramente di fare qualche passo in avanti voi sapete che sul tema delle malattie rare esiste un elenco di 109 patologie da queste 109 patologie ce ne sono esclusi alcune per cui si rischia di creare anche una contrapposizione fra associazioni che è deleteria per il bene dei malati e delle loro famiglie allora noi accogliamo le parole del Ministro istituendo questo intergruppo per dimostrargli che dopo l'approvazione delle mozioni alla Camera e al Senato noi vogliamo fare questo passo in avanti insieme insieme a voi il mondo della scienza il mondo della ricerca il mondo delle associazioni insieme a voi dobbiamo e insieme all'intergruppo parlamentare dobbiamo individuare quelle priorità che possono essere realizzate e attuate prima della fine di questa legislatura un anno di tempo sono pochi mesi di lavoro un anno è un tempo infinito per chi soffre un anno dal punto di vista parlamentare è un tempo limitato lo sappiamo benissimo e questo cozza rispetto all'affermazione che ho fatto prima invece l'obiettivo quando ci siamo confrontati con Paola e con alcuni di voi ci siamo proprio detti sappiamo di non poter cambiare il mondo lo sappiamo benissimo è arrivata anche Maria Pia Garavaglia che è un'altra persona non solo che fa parte dell'intergruppo ma che ha lavorato molto e che sta lavorando molto con noi allora il primo obiettivo è questo è anche quello di coordinarci con l'altro obiettivo che si era dato il Ministro che ha annunciato in Aule e che sappiamo sta realizzando quello di dar vita ad un momento di coordinamento all'interno del gabinetto del Ministro quindi credo che questo possa essere un tempo limitato ma magico uso questo termine inappropriato ma per creare dentro di noi una speranza concreta non una speranza ideale una speranza concreta anche perché solo grazie a questa rete di collaborazione io credo che possa sortire qualcosa di positivo in linea con la volontà del Ministro in linea con la volontà del Parlamento del mondo della scienza della ricerca e delle associazioni anche un piccolo passo in avanti sarà un passo significativo al fine di consentire la prossima legislatura e chiudo riprendendo un'affermazione di Paola che credo sia un'affermazione saggia e di speranza noi vogliamo consegnare in eredità al prossimo Parlamento chiunque ci sarà ma siamo certi che comunque ci sarà un gruppo di parlamentari che come noi vorranno focalizzare la loro attenzione su questo tema lo faranno perché troveranno in eredità questo lavoro speriamo proficuo che cercheremo di realizzare con voi dando però anche dei segnali concreti perché non possiamo solo esprimerci l'arte all'interno della della Camera e del Senato e l'arte della parola si chiama infatti Parlamento ma l'arte della parola deve produrre delle scelte questo governo ha un merito magari non ci soddisfa completamente però ha il merito di saper scegliere oggi i cittadini ci chiamano a delle scelte oggi il mondo delle malattie rare ci chiama a fare qualche scelta in più e noi siamo qui per dirvi che da domani abbiamo utilizzato la giornata mondiale sulle malattie rare per annunciare questo gruppo al Senato noi per il momento dico per il momento perché ancora questa mattina è arrivata una nuova adesione siamo 23 colleghi che hanno aderito al Senato è solo l'inizio è l'inizio di un percorso perché noi puntiamo a fare un gruppo ampio di persone per dimostrare la trasversalità anche la forza i numeri alcune volte danno la forza di questo e poi per individuare un gruppetto che lavorerà una sorta di cabina di regia che lavorerà insieme a voi il saluto che vi faccio c'è con me anche la collega Contini che ha aderito fin da subito e che ci dà anche una prospettiva non solo nazionale ma fortunatamente anche internazionale su questo tema è fondamentale una attenzione ai protocolli internazionali agli studi che a livello mondiale ci sta a mi permetto di scappiamo scappiamo da domani in che per speranza che ne aderiscano anche molti altri come grazie anche della vostra grazie infinito alla mia collega solo due parole per dire che io sono a disposizione per cui sono lietissima sia perché penso che siamo essere un po' cassa di Emanuela da qualche anno sono presidenza dagli italiani nel mondo e ci sono tanti ospedali in tutto il mondo che anche hanno problematiche similari a tutto quello che vede l'associazione e purtroppo non sono tanto vicini quanto noi a Roma al Parlamento e alle scelte quindi da una parte la vicinanza e quindi l'internazionalizzazione di questo che può essere importante per tutto quello che si verrà a decidere in questo anno e si inizierà nella prossima legislatura d'altra parte attraverso l'interparlamentare mondiale di tutti i parlamenti nel mondo mi permetterò di dare forza affinché ci possano essere risoluzioni come ci sono nelle commissioni della salute a livello internazionale dei nostri parlamenti e di tutto il mondo per poter dare ancora più vigore a quello che si deciderà di fare quindi sono a vostra disposizione sono lietissima di fare parte insieme ai colleghi e speriamo di poter lavorare bene per poi dare le basi per un futuro migliore grazie grazie a te per l'interno che ha fatto durante la giornata buono si fa un po' un bilancio Io credo che in questo senso della legislatura per poter fare qualcosa di concreto, credo che quello che ha fatto il Parlamento, i governi, sia quello che ha fatto il campo sanitario. E' un po' un bilancio di noi, ci siamo anche sempre, per cercare di portare a casa qualcosa. Per vedere che non ha senso il lavoro di Palliati, ebbene credo che al di là delle terapie del dolore, le cure palliative, il campo sanitario non sia stato fatto abbastanza per usare un eufemismo. E credo che quello di queste malattie dovrebbe essere l'occasione che il governo non dovrebbe perdere per mettersi un fior all'occhiello e dire abbiamo fatto qualcosa nei confronti di bambini e malattie di cui non si cura nessuno. Perché la politica non ha giovamento perché non porta voti, le industrie farmaceutiche non hanno giovamento perché non hanno interessi, e quindi si chiamano malattie orfane proprio perché sono figlie di nessuno. Credo che il punto che si dovrebbe sostenere col governo, e qui veramente credo che l'intergruppo dovrebbe avere la forza e l'energia di farsi rispettare dal governo e di sottolineare che è qualcosa che sta a cuore a tutti. Qualcosa che sta a cuore a tutti. Io conosco perché ho fatto il ginecologo, sono ancora ginecologo e quindi ho fatto diagnostica per immagini e diagnosi prenatale. Conosco il dramma di queste famiglie quando non si capisce di che cosa si tratta, di sintomi specifici, i viaggi delle speranze. E quindi riuscire a creare soltanto una sensibilità nel Paese, una rete del Paese, per cui si sa che quando c'è un dubbio si sa dove andare. E' inutile mettere un centro per ogni città per malattie che magari in Italia interessano soltanto 100 bambini. Cercare di far approvare e di far entrare nei livelli essenziali di assistenza le 109 malattie nuove che ancora non sono incluse. Ma c'è dall'altro lato il Ministro che ieri, in un'altra cosa che mi ha toccato molto, che è quella dei diemo danneggiati. 7.300 cittadini italiani che per aver effettuato una vaccinazione obbligatoria o una trasfusione di sangue o una sacca di albumina hanno contratto l'epatite virale, l'AIDS e adesso si parla di prescrizione. Come se la morte o la malattia andassero in prescrizione. E' stato spiegato che la coperta è corta, ma credo che dovremmo farci carico delle responsabilità dello Stato che ha causato queste morti. dovremmo creare delle priorità. Credo che gli emo danneggiati, i bambini che non hanno colpe perché si tratta di malattie che non interessano a nessuno dovrebbero essere fra le priorità assolute e il Parlamento attraverso questo intergruppo. E' stata la prima volta, credo, che è stata approvata una mozione unitaria perché in genere ogni forza politica ne fa una e poi vengono approvate tutte. Questa è stata proprio una prova di comunione in un intento nobile e credo che questa sia davvero la forza di questo intergruppo perché è qualcosa che scaturisce dalla sensibilità di nessun altro interesse. E in questo, Paola, dovremmo andare avanti cercando proprio di far capire che per fine legislatura dovremmo fare qualcosa. La rete almeno. I finanziamenti che oggi vanno a cascata perché non c'è un registro e quindi bisognerebbe vedere dove far andare un po' di più e dove un po' di meno, quei pochi solvini, si parla di 20 milioni di euro, non è che si parla di tanto, affinché arrivi almeno le famiglie che per ora non hanno niente. Quindi la ricerca non si fa, le famiglie quindi si disperdono questi pochi soldi che dovrebbero essere indirizzati, credo, a mio avviso meglio. Un'altra sarebbe quella delle agevolazioni per l'industria che dovrebbe essere spinta, per fare ricerca in quel settore, anche se poco a un nubo remunerativo. E se riusciamo a centrare questi obiettivi, probabilmente avremmo fatto una cosa buona che potrà essere annoverata in quelle poche cose approvate in campo sanitario che davvero vanno, secondo me, incentivate. Adesso mi piacerebbe dare la parola ad alcuni di voi e speriamo che qualcuno voglia prenderla. Iliana, vuol dire che tu prendi la rima, non importa a che titolo parli, perché a qualunque titolo parli, parli bene, esattamente quello che stavo dicendo. Iliana è una collega parlamentare ed è una delle persone che con maggiore sensibilità, con maggiore concretezza e anche con maggiore onestà intellettuale è sempre in grado di prendere posizione su questi temi. Sì, spero che si senta. Io sono venuta questa mattina a questo incontro, devo dire la verità, perché è invitata da Paola Biretti, nel senso che credo molto che Paola sia una persona capace e vera nel fare le cose, che non si nasconda generalmente dietro tante parole, ma che punti a partana, come si dice quando si gioca al nascondino. Per cui la voglia di venire qui un pochino prima di una giornata che sarà molto lunga oggi in Parlamento è stata proprio quella di finalmente forse concretizziamo qualcosa sull'argomento. Sulle malattie rare devo dire che ultimamente, nell'ultimo anno, anzi forse un paio d'anni, c'è stata una grande demagogia, lo voglio dire io prima che qualcuno di voi lo dica, è stato strumentalizzato da attori famosi o da personaggi illustri che poco hanno fatto rispetto al bisogno e molto hanno detto. E quindi l'idea di questo gruppo in qualche modo mi sollecita a pensare che ci saranno delle risposte, fosse solo culturali, nel senso che finalmente risolleviamo la questione in modo pulito e dignitoso per le persone che hanno dei deficit, che vengono utilizzati molte volte in modo vergognosamente, come dire, proprio di immagine. Io credo che la patologia rara, se parliamo di disabilità o se parliamo comunque di difficoltà in genere, sia veramente, come dire, il figliastro delle patologie. Perché non solo uno è coperto e l'altro è una difficoltà, ma si sente dire continuamente che non c'è soluzione e viene rimandato da medico in medico, lasciando molte volte le famiglie in questo giro delle sette chiese senza speranza. Credo che noi dovremmo immaginare anche la possibilità invece di dare informazioni. Questo gruppo mi sembra che debba fare le sue battaglie, e mi permetto con umiltà di dire questo, di fare le sue battaglie per quanto riguarda assolutamente la ricerca e non solo il contatto con le ditte farmaceutiche, ancora con i numeri e con un osservatorio che molte volte è nascosto, perché noi parliamo di malattia rara e lì dove la malattia rara oggi non trova una sua collocazione. Avete visto quanto si parla di pensione di invalidità e di falsi invalidi? Ecco, tra i falsi invalidi, quanti di noi perché non si sapeva che patologie avevano, sono stati inseriti in un contesto o in un altro? Ve lo dico per esperienza. Io quando sono nata sono stata diagnosticata come poliomerite, perché nel 63 faceva molto tendenza a avere la poliomerite. Cioè, questo vaccino era l'ultima ondata, e quindi a mia madre gli disse, lei, una mamma incosciente, non si è resa conto, sua figlia tutta avrà risata la poliomerite. Mai ha avuto una poliomerite. Dopodiché scoprirono che aveva una forma di istrofia muscolare. Non è che la voglio raccontare tutta, ma per farvi capire poi come una malattia può diventare rara o meno, no? Dopodiché c'è distrofia muscolare. Feci la prima visita all'ufficio provinciale e mi scrissero, dal finestrino della macchina, perché non mi fecero entrare, c'erano le scale, e sceso il medico e disse, distrofia muscolare progressiva difformante. Che cosa sia, non lo sa nessuno. Cioè, negli anni nessuno ha mai saputo cos'è. Quindi non trovavo una risposta da nessuna parte. Perché dove andavo, andavo, mi dicevano, sì, ma questa patologia non ci compete, il centro di abitazione non la conosciamo, e lì non c'era. Quindi è stata una caratteristica di foglia generale. Finalmente ho trovato una malattia che gli va bene. e quindi su quello abbiamo lavorato. Ma vi assicuro che nessuno in questo periodo sono inseriti in contesto che molti ragazzini borderline che non hanno attenzione sono inseriti nel mondo della disabilità e non vedono nulla. Cioè, il reato, quello che non si conosce, fa talmente paura, o meglio, si cerca talmente di contenerlo che si stanno facendo grandissima confusione in questo momento su queste cose. Per cui io credo, Paola, che al di là di tutto hai avuto l'idea di fare una cosa vera, cioè importante, che non siano soltanto per il gusto, diciamo, di trovare una soluzione di servizi, lo dico, prendendo mio onere e onore di quanto dico, molti servizi sono erogati per far tacere un malessere, ma non sempre il servizio è necessario. Cioè, il bimbo autistico ha bisogno di tante di quelle cose che non hanno nulla a che vedere con quello che gli si offre, invece, che ha dei costi completamente diversi. Cioè, io credo che non è che dobbiamo tornare alle classi prefenziali, immaginatevi se io potrei mai pensare questo. Però sono anche dell'idea che i diversi sono diversi tra di loro, che sono persone, quindi non è che si può fare di tutta l'erba un pascio. Bisogna assolutamente cominciare a immaginare che anche nel mondo della sfiga, come la chiamo io, insomma, lasciatemelo dire, gli sfigati sono persone e che quindi ognuno è se stesso con la sua patologia che si presenta in un modo o in un altro e che non vuol dire che se il medico non la conosce diventa rara. Diventa rara nel momento in cui non ci sono realmente gli strumenti. Comunque, l'ho chiacchierata anche troppo. Quello che vi dico con grande onestà è che lì per lì, ieri quando mi ha detto ho detto ma ci devo pensare non è che ci dovevo pensare volevo capire di che si trattava mi pare che ci siamo e quindi il mio impegno sarà assoluto e pieno per darvi una mano. Mi piacerebbe dare la mano della parola prima a una mamma se vuoi venire qua Sabina Sì Così ti vedono in faccia potendolo fare Amica Caravaglia vuoi salire anche tu qua con noi Sabina è la mamma di una bambina autistica ma lei è solo per sciogliere per dare la parola a voi la prima di queste e lei racconterà Sì io vi ringrazio e mi scuso innanzitutto sono veramente contenta come genitore che finalmente ecco dopo tanti anni è rinato un impegno ci conosciamo da una vita Maria Pia Caravaglia come peraltro con Ileana Argentini però devo dire come genitore in questo momento politico storico che sta vivendo l'assistenza e questo gruppo parlamentare è nato proprio come una boccata di ossigeno ci siamo sentiti finalmente i genitori un attimo più appoggiati perché è un momento come dicevamo estremamente difficile non voglio rubare molto tempo io ho una figlia autistica di 48 anni all'età di Leana Argentin per 7 anni dal 63 al 70 ho fatto quello che facevano tutti i genitori che facciano ancora oggi tutti i genitori questa figlia era particolare un po' con ritardo alle sue funzioni principali poi aveva un atteggiamento di rifiuto proprio corporeo tutte le mamme cerchiamo di accarezzare il bambino soprattutto quando dorme nella sua culla lei con le manine mi respingeva non aveva non conosceva il pericolo non aveva la sensazione del freddo del caldo e quindi ci tormentevamo poi era bellissima figlia dal punto di vista fisico era una bambina stupenda perché che cos'ha che non sai abbiamo fatto quello che fanno tutti i genitori quindi da un professore all'altro fino a quello che è l'università che rappresenta per tutti noi il massimo della espressione e quindi della risposta adeguata ma anche all'università ho fatto due periodi di osservazione di 15 giorni usavano così a quell'epoca non so adesso dopodiché stretti nelle spalle torni il prossimo anno vabbè però noi genitori continuiamo a cercare questa volta è venuta in aiuto una occasionale trasmissione televisiva all'epoca c'era cronache italiane e che dava dei flash su delle realtà delle mentre ero io in tenta peraltro stavo studiando ho sentito questa voce di questo uomo di questo medico che diceva in Italia non si fa niente eppure basterebbe cominciare eccetera quindi non senti neanche il nome di questo medico chiamai la RAI a quell'epoca era anche più facile il rapporto con la RAI e con le istituzioni di quanto non lo sia oggi oggi è tutto complicato diventando comunque la RAI mi disse che era un giornalista del Corriere della Sera un neurologo giornalista che aveva girato il mondo per motivi appunto di giornalismo e che aveva questo centro sperimentale centro sperimentale LG a Milano sono andata a Milano naturalmente con un po' di riserve perché è uno che ha visto tanti luminari e l'università che ha detto non te vanno una diagnosi non si sa che cos'è sono andata un po' perpressa però ci sono andata e fu la prima volta che io senti parlare di autismo e io dissi professore dottore ma che vuol dire e lui disse non se ne preoccupi beh in effetti dico io non voglio neanche preoccuparmi a me quello che interessa sapere se il lavoro che lei fa può essere utile per mia figlia lui mi disse subito dice guardi io prima di essere medico sono un padre lei ha tre figli vive a Roma io sono a Milano il centro come fa e io sono sempre stata linguacciuta insomma che l'epoca dissi che ancora ero in grado io di badare come gestire la mia famiglia a me quello che interessava sapere se quello che lui faceva era importante poteva fare quindi un medico sconosciuto per dire nell'ambito della comunità scientifica insomma quindi non riconosciuto avversato da molti ma che ha iniziato un lavoro estremamente importante successivamente poi riconosciuto anche da Cisabianchi a Milano eccetera è stato un intervento di tipo psicorelazionale una psicoterapia particolare incentrata come dire studiata su un bambino che non parlava insomma quindi era un intervento mirato ma ciò che è stato veramente importante ripeto non è tanto la metodologia quanto il metodo di lavoro cioè il fatto che oggi parliamo di presa in carico Balucisano nel 1970 40 anni fa parlò di presa in carico globale quindi non era soltanto il lavoro individuale che si faceva col bambino nella stanza peraltro io potevo anche essere presente quindi non escludeva perché il problema era partecipare a certi strumenti conoscitivi perché la famiglia li potesse utilizzare ma il discorso nasceva anche dalla necessità che questi bambini non dovevano stare ghettizzati quando io dissi vabbè ma quando vado a Roma tre volte alla settimana vengo a Milano ma quando vado a Roma la porta a scuola serena che avevo sentito dire ma che io non conoscevo lui mi disse che cos'è scuola serena ma dico un centro dove ci sono questi bambini e che vuol dire questi bambini quella lì si deve andare a scuola come tutti e abbiamo iniziato nel 70 è stato un periodo stupendo della nostra vita perché io e un altro paio di genitori che avevamo i bambini a Milano con un altro insieme ad un gruppo di medici che veramente hanno fatto la storia lasciarono l'università il professor Bollea negli anni 70 parlo del professor Massimo Amanetti parlo di Antonucci che purtroppo non è più con noi Fernando Save quindi parlo di un gruppo di medici che appunto erano convinti che la riabilitazione non fosse un momento delegato all'interno di un locale dove peraltro nessuno aveva accesso e nessuno capiva la riabilitazione non poteva prescindere dalla socializzazione quindi i bambini diversi devono stare insieme agli altri e nell'ambito come diceva giustamente Ileana uno comincia a capire quello che bisogna dare perché il discorso non è certamente unilaterale l'ultimo flash lo voglio dire appunto ho ricordato questa storia sono grata all'onorevole Minetti per ricordare che proprio sull'autismo stiamo vivendo veramente una situazione abbastanza io non so catastrofica direi non è mai accaduto nell'ambito della io ecco è 40 anni che mi occupo di questi problemi quindi attivamente ho fondato un'associazione appunto 40 anni di vita oltre che mi occupavo dell'Anfaso Maria Via però assolutamente non è mai accaduto che un istituto superiore di sanità licenzi delle linee guida che danno un solo tipo di intervento ma questo minano la libertà individuale la scelta voglio dire è veramente non ci sono termini per dire questa cosa quanto veramente è pericolosa tra l'altro perché voglio dire ammesso che anche faccia bene un tipo di intervento non è così perché abbiamo già detto prima che ogni bambino ha bisogno di un suo intervento ogni bambino è un'entità che vive all'interno di una realtà è fatto di carne di ossa di spirito di mente quindi sono tanti gli aspetti che vanno presi in considerazione quindi non è possibile ma ammesso anche così per una ipotesi valorda che questa cosa possa andare bene ma preparare il personale è una questione lunga di vita come si fa a preparare tutti gli operatori a prepararli non ad addestrarli qui viene minato il concetto di fondo di quello che è l'essere umano quello che è la persona perché se la persona poi non esiste più in quanto tale allora vabbè allora consideriamo che non siamo più persone dobbiamo addestrare qualcuno ma a questo punto tra le altre cose io mi ribello come cittadino oltre che come geritore da un punto di vista tecnico perché anche i nostri soldi devono essere spesi con maggiore cautela con maggiore attenzione quindi non fosse altro che diciamo dobbiamo prendere posizione e dobbiamo riuscire ad ottenere un'attenzione perché io ho già detto all'onorevole Minetti io sono stata io sono andata alla presentazione delle linee guida al ministero e sono stata colpita dal professor Garaci che in effetti aveva l'idea come a dire io non condivido questa cosa ma la debbo fare perché il professor Garaci in apertura proprio ha voluto fare una raccomandazione ai colleghi ha detto mi raccomando questa cosa dell'evidenza bisogna stare attenti e ha ricordato il caso di un suo collega medico di molti anni prima che aveva messo a punto una teoria credo per intervenire sulla milza sul problema della milza e che era stato bandito dalla comunità scientifica per oltre sette anni e che dopo molti anni era stato reintegrato quindi lui ha fatto tutta questa raccomandazione e poi ha presentato allora il problema è che qualche dubbio il professor Garaci ce l'ha per cui io ho già scritto chiesto un incontro naturalmente è possibile che non risponda o in qualche modo ma sono lieta di sentirmi finalmente affiancata da un gruppo parlamentare che sono lì proprio per risolvere i problemi nostri e noi certo non ci auguriamo quel tutto ma che già che riusciamo in questo anno in questa legislatura a bloccare queste linee guida a riaprire un discorso con il ministero della sanità a me sembra che già è un grosso successo che noi otteniamo vi ringrazio molto Maria Pia poi vado perché al senato alle 11 votiamo e chiedo scusa di questo parlo perché ho sentito Sabina e dopo di te perché hai cercato di ricordarci che troppo poco abbiamo fatto per ora vuol dire che abbiamo segnato il passo è un crucio che mi tiro dietro da vent'anni per tutte le cose che ha detto Sabina sono le cose che io ho imparato quando ebbi la fortuna e l'onore di essere ministro della salute avevo messo in piedi un gruppo di tutte le malattie cioè dei malati dei loro familiari mi dispiace per i colleghi medici luminari non avevo fatto un gruppo dove ci fossero i tecnici perché i tecnici avrei poi potuto chiedere la sintesi per cercare di fare servizi e quindi vedo che dopo vent'anni siamo ancora qui allora questo intergruppo mi ha molto convinto perché è la pressione è quello che ottiene risultati loro la fecero su di me e mi insegnarono molte cose alcune malattie sociali le approvammo allora le malattie rare ahimè sono un bel alibi e quindi abbiamo bisogno di chiarire esattamente che cosa vuole riproporsi un sistema sanitario universalista cioè che non lascia fuori nessuno e se proprio deve lasciare fuori qualcosa lascia fuori ciò per cui il cittadino può cavarsela da solo non sono le malattie rare ahimè quelle per cui una famiglia può cavarsela da sola ma nemmeno il centro specialistico può cavarselo da sola per le limitazioni economiche finanziarie per la riduzione stessa delle persone che vi sono dedite anche i ricercatori in questo campo non sono numerosi come quelli nel campo cardiologico oncologico eccetera quindi c'è un problema di priorità assolute e allora il Parlamento che aiuta il governo perché se il governo deve scegliere in maniera per ottenere il consenso non si concentra con priorità sul meno va a pioggia sul tutto o sul di più questo intergruppo lo vedo proprio con questa logica come se ricominciassi da capo a imparare perché questo gruppo farà pressione sul governo quando ci sono finanziamenti da allocare saprà dimostrare quali sono le priorità a cui fa riferimento creerà cultura soprattutto dobbiamo fare una grande opera di informazione per formare gli operatori non sembri strano ma nel mondo della sanità fra 5, 10, 15 anni mancheranno moltissimi operatori sanitari per cui i nostri giovani possiamo suggerire queste strade che magari non conoscono e per le quali potrebbero avere attitudine e per alcuni settori della sanità non solo la formazione sanitaria di base ma la specializzazione con la possibilità di andare all'estero quindi c'è in gioco un modo nuovo di concepire il nostro paese questo governo tecnico che sembra aver rilanciato tutte queste modalità ha solo un anno forse ma questo nostro in che gruppo in questo anno faccia noi abbiamo il CNR che ha aspetti sanitari che progetti fa l'istospecialità che fa una cosa di questo genere che è antiscientifica non puoi proporre una sola soluzione mi vengono in mente quelle regioni che propongono un solo farmaco perché hanno dovuto fare la gara sui farmaci quindi abbiamo un'occasione unica e da questo che ho chiesto la parola per dirvi che la mia adesione credo Sebina voglia ripercorrere quel metodo è un metodo di pressione consapevole non demagogica non di consenso politico ma perché il nostro paese può fare un passo avanti ai miei tempi c'era ancora un istituto farmaceutico a Firenze che essendo pubblico poteva essere anche spinto a legarsi ad alcune università italiane o straniere su specifiche malattie rare adesso non so a furia di tagli a che punto siamo ma se ci fosse un nucleo che ancora praticamente dovendolo fare per compito istituzionale perché è un istituto farmaceutico statale potesse collegarsi almeno per alcune delle malattie rare a tutti i centri che vi stanno già lavorando è evidente che la sinergia potrebbe far fare una corsa rispetto al tempo e anche forse un guadagno rispetto alle aspettative delle famiglie vi ringrazio perché oggi avendo visto alcuni dei vostri visi mi sono sentita responsabilizzata ancora di più e quindi vedrai che lavoreremo tanto grazie ancora scusatemi se adesso vado a ruotare con il fuori sono Paola Mazzucchi sono un genitore di un ragazzo rarissimo di 23 anni con una patologia gravemente invalidante un ragazzo molto brillante e sono qui come rappresentante della consulta nazionale delle malattie rare perché da molti anni come familiari di malati come pazienti come rappresentanti di decine di associazioni dei pazienti dei malati rari abbiamo portato avanti abbiamo cercato di portare avanti un lavoro proprio per individuare le priorità le criticità proprio perché già sul territorio abbiamo quotidianamente la consapevolezza di che cosa significa avere una malattia rara rispetto al discorso delle commissioni di invalidità che non le conoscono e non le riconoscono il problema dei falsi invalidi ci ha fatto soffrire tantissimo perché è una cosa terribile avere una tremenda malattia ed essere addirittura processati non esaminati andare lì con i figli che soffrono ed è umiliante ecco per quei pochissimi soldi che vengono dati e che non basterebbero veramente abbiamo lavorato quindi vedendo il discorso individuando diverse criticità e sapendo che proprio quando mancano le risorse è fondamentale arrivare a un discorso di differenziazione mi è piaciuto tantissimo il suo intervento proprio perché io dico come siamo sommersi dalla spazzatura se non siamo capaci a fare la raccolta differenziata se noi compriamo un enorme bidone per accogliere le pile piccole quelle degli orologi facciamo uno spreco e non facciamo neanche un buon servizio noi a Genova come gruppo di ammalati rari avevamo presentato un libro bianco in cui avevamo messo in copertina il disegno della storia della volpe e della cicogna quando la volpe offre un piatto di minestra alla cicogna è una presa in giro quando sono offerti dei servizi che non possono essere accessibili agli ammalati rari tante volte la famiglia il genitore si sente preso in giro quasi sarebbe meglio che non ci fossero i servizi piuttosto che dei servizi che sono inadeguati io so di una mamma che ha pianto in Campania perché non gli volevano riprendere indietro la carrozzina che non era adatta a suo figlio perché la sindrome di Lechnaian è tutta particolare non può essere standardizzata ecco questo dei discorsi dei progetti di lavoro delle linee guida per abituire dei progetti individualizzati e già le leggi ci sono e questo è tutto un lavoro che è stato fatto allora io sono qui a di della nascita di questo e però ecco il collegamento con le associazioni hanno già fatto anche il lavoro e la fatica di salita mantenendo specificità ed è stata una fatica anche per noi perché è faticoso riuscire ad andare d'accordo a questo è un patrimonio quindi come consulta nazionale delle malattie rare nel 2006 continuiamo a essere a buttare via un cammino e vogliamo riproporare a fianco perché come genitori a noi non importa il discorso di trasversalità a fianco di tutti coloro che lavorano per la persona con una malattia rare sapendo che se è una malattia rara è diversa e se è diversa deve essere trattata come diversa l'omogeneizzazione è un disastro grazie 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 infinito della testimonianza sì dici chi sei sono Giuseppe Zampino sono un pediatra genetista e sono responsabile di uno dei centri di malattie rare ma anche sono parte del direttivo della società italiana di malattie genetiche pediatriche e disabilità congenita questo gruppo è molto interessante ma ha anche molto da fare dal punto di vista di rompere alcune barriere per esempio malattia rara non può essere una malattia regionalizzata assolutamente ma non può essere in alcuni casi neanche nazionalizzata se prendiamo per esempio le progerie sono dieci in tutta Europa per garantire i diritti delle progerie c'è bisogno che ci sia un centro competente in tutta Europa paradossalmente ora come siamo abbiamo più centri di malattie rare che malati rari all'interno delle singole regioni e non può andare l'altra cosa una cosa che forse è necessario riflettere è che le malattie rare sono 5.000 e non 300-400 e quindi non può essere discriminante il fatto che chi ha la sindrome di Kaufman non è riconosciuto e chi ha la sindrome di non ha ne riconosciuto per forza di cose bisogna definire il raro il rarissimo su tutto quanto allora a questo punto uno dice va bene ma non ci sono risorse in realtà è vero ogni malato raro è una caratteristica specifica e bisogna incidere molto sulle ziologie e sulla gestione della patologia però se immaginiamo le distrofie muscolari la genetica ha distinto una quantità di 100 geni 100 condizioni diverse ma le patologie comuni a sono 4 e sono la patologia respiratoria nutrizione generale e gastroenterologica sono comuni a tutte 80 le condizioni quindi se io riuscissi a fare centri che gestiscono che riescono a gestire la complessità a livello regionale e territoriale io garantisco l'assistenza per tutte quelle persone complesse per tutte quelle che sono i problemi trasversali sanitari ma a questo punto di più perché la disabilità non è solamente un problema sanitario ma è multisettoriale quindi c'è un ripercorso sociale quindi avrei bisogno di avere dei centri nuovi pensati come centri sociosanitari in cui si prende in carico dal punto di vista globale il paziente e si prende in punto di vista globale partendo dal piccolo fino a quando diventa adulto perché una delle situazioni in cui mi trovo sempre di fronte è che il bambino con la sindrome di Down e Down fino a 20 anni dopodiché è normale perché nessuno gli fa più i controlli vale a dire nessuno superiore il suo stato di salute quindi la complessità è uno degli elementi forti che deve essere meglio capita ma deve essere anche dal punto di vista economico nel senso che si trova a combattere con l'amministrazione di ogni ospedale perché l'amministrazione dell'ospedale è un budget e il bambino complicato o meno di un bambino che non ha problemi o meno che ha problemi più modesti un bambino con una sindrome malformativa come la sindrome di Down come DRG per un deospito prende la metà di un bambino allergico asmatico o con un difetto delle infezioni di una cistite allora in realtà per organizzare tutti i controlli di un bambino con la sindrome di Down io ho bisogno di mettere attive un sacco di risorse e oltretutto devo attivare e parlare e discutere con tutti i colleghi per trovare una strategia risolutiva specifica per il bambino Mario che ha Cornelia dell'Ange e questo significa un'enorme quantità di spesa in America l'hanno definita sono 5 ore di lavoro per ogni bambino complicato il mio ospedale mi dà lo spedale di un bambino che non ha nulla o meglio che fa i bilanci di salute normali a questo punto se io voglio fare l'interesse del bambino devo andare contro l'interesse dell'ospedale e questo io devo garantire l'interesse del bambino che è lo stesso interesse i punti salienti sono in alcuni modi anche rompere una nazionalizzazione se vogliamo parlare di malattie rarie con particolare attenzione special marziano il bambino marziano è chiaro che la mamma non ha nessun background culturale su cui riconoscere sono proprio quelli che non hanno neanche delle associazioni di genitori con cui confrontarsi è un'altra cosa pensare che ci siano molti centri di gestione di bambini ad alta complessità che abbiano dei riconoscimenti economici come del resto è riconosciuto l'economia di un farmaco raro il farmaco raro costa tanto perché molte persone devono lavorare per arrivare a una soluzione di quel farmaco e ugualmente nella gestione di un bambino complesso e raro c'è bisogno di tante attenzioni che hanno bisogno del loro riconoscimento scusate mi sono prolungato grazie grazie infinite prego si sente? si io volevo ringraziare l'onorevole Binetti per questo si sente? mi chiamo Bruno Morabito sono il presidente di Vento Grande Onlus che è un'associazione di genitori molto più giovane dell'associazione dei genitori quarantennale della signora che mi ha preceduto noi focalizziamo la nostra attenzione sugli anni dell'adolescenza realizziamo iniziative le più disparate da diciamo ipoterapia onoterapia musicoterapia tantissime attività diversificate a seconda delle diverse esigenze dei ragazzi che seguiamo abbiamo circa 75 ragazzi e siamo assolutamente convinti sia del principio di fondo che sta alla base di questo interessante dibattito cioè della necessità che vi sia una stretta collaborazione fra enti e associazioni e istituzioni per uno scopo comune cioè quello di aiutare le famiglie che vivono questa difficoltà quotidiana a superare le difficoltà e a non sentirsi isolati e soli di fronte al problema un problema che condiziona non soltanto la vita ma condiziona l'intero la vita di una famiglia noi si linea con quanto detto l'onore quando parla di diversi il nostro slogan è proprio ragazzi e attività speciali ogni caso è un caso assoluto si può usare lo stesso metro per tutti i ragazzi e infatti noi ci facciamo aiutare nella definizione delle attività migliori per ogni singolo caso dalla consulenza dell'istituto di ortofonologia di Roma che ci dà una mano essenziale per noi quindi la necessità di integrazione la necessità con le istituzioni la necessità di avere un lavoro mirato quindi di apertura nei confronti di qualsiasi tipo di terapia che possa essere utile allo specifico caso e la necessità di visibilità del problema raro sono alla base delle nostre aspirazioni per questo motivo noi il 2 di aprile il prossimo 2 di aprile giornata mondiale dell'autismo stiamo organizzando un evento di visibilità per richiamare l'attenzione di enti e dell'opinione pubblica sul problema dell'autismo presso il cinema Barberini proietteremo il film Temple Grading che è un bellissimo film sull'autismo e ci sarà un piccolo dibattito sul problema che affligge i nostri ragazzi e vorrei quindi in questa sede invitarvi tutti quanti a venire a partecipare ad essere con noi e a dimostrare la vicinanza anche fisica alle nostre problematiche tutte le informazioni logistiche verranno date sul nostro sito internet che è diventogrande.org grazie mille c'è qualcun'altro Silvia due parole sono Emilia Costa medico docente universitario e presidente di un'associazione di pazienti familiari di pazienti e medici che si chiama Progetto Famiglia quindi volevo dare la mia solidarietà a Paola per questa iniziativa che sembra importantissima e al gruppo parlamentare che può essere come si diceva un gruppo di pressione fondamentalmente secondo me su due cose per la ricerca perché purtroppo l'Italia è il paese più bello del mondo però spesso non si è capito che potenziare la ricerca di potenziare l'innovazione lo sviluppo l'uscita di un paese quindi i finanziamenti vengono date come diceva l'onorevole a cascata non si sa poi su quali progetti vengono investiti e questo mi sembra una cosa da correggere e quindi chiedo a questo gruppo di interessarsi di questo e di fare proprio delle pressioni su questo perché secondo me è fondamentale poi voglio dare anche la solidarietà come tecnico e quindi a questo gruppo di tecnici perché anche per i livelli di assistenza a mio avviso non si è fatto abbastanza in Italia perché spesso gli obiettivi non sono seguite da strategie apte poi sia individuare meglio gli obiettivi sia raggiungerli grazie c'è qualcun altro che vuole intervenire perché altrimenti concludiamo dicendo questo noi vi ringraziamo di questa solidarietà della vostra presenza l'intergruppo deve come dire affondare le sue radici nel rapporto di collaborazione con le associazioni dei pazienti con le realtà diciamo accademiche di ricerca di studio e di assistenza come sono diciamo quella che tu hai descritto che se non mi sbaglio è al gemelli tu sei al gemelli e comunque oggi pomeriggio si apre al policlinico Umberto I uno sportello per le malattie rare quindi anche un'iniziativa che in ogni caso coinvolge e trasferire tante realtà di assistenza sul territorio romano e sul territorio nazionale noi vogliamo dialogare con tutti voi vogliamo essere un centro se volete prima di tutto di ascolto tu l'hai detto molto bene in questo momento e la solitudine delle istituzioni molte volte è anche il tema della presunzione delle istituzioni ed è quella sorta di patologia che viene descritta così bene quando si parla del lavoro dei medici dice che il medico dopo 18 secondi che il paziente sta parlando già lo interrompe perché già ha capito esattamente tutto quello che lui vorrebbe dire ecco qualche volta le istituzioni fanno così dopo 18 secondi dopo 15 secondi già ritengono di aver capito tutto il problema e come è evidente non è così abbiamo tutti bisogno di ritrovare la pazienza dell'ascolto per capire davvero dove stanno i problemi e per non fare quei due esempi che sono stati in questo momento descritti in modo così efficace a secondo la metafora della cicogna che becca nel piatto e viceversa poi l'altra che conosciamo tutti quanti del grande della volpe che aveva il cilindro lungo nel quale non poteva non poteva mangiare a volte facciamo così non facciamo coincidere la domanda che è l'offerta con l'offerta e quando la domanda è alta variegata e spesso ha delle sfumature drammatiche di un certo rilievo e l'offerta è necessariamente limitata e ci dicono necessariamente sempre più limitata allora la questione etica sta anche nella scelta concreta in cui il punto di richiesta intercetta il punto di offerta il modello che tu hai disegnato che tu hai descritto che non è basato tanto sulla diagnosi che presuppone la diagnosi diversa e quindi la differenziazione dei pazienti ma poi cerca comunque le categorie attraverso le quali in qualche modo far convergere la qualità di alcune risposte tu hai fatto un discorso centrato su organi apparati respiratorio digestivo eccetera possono essere modelli ce ne possono essere tanti diversi l'importante è che ci siano e che siano efficaci e ognuno di loro sia declinato con una parola che non è una parola banale che è la ricerca vera dell'eccellenza un'eccellenza nella ricerca un'eccellenza nell'assistenza un'eccellenza nella solidarietà nulla potrebbe fare la politica ma mi permetto di dire che nulla potrebbe neppure fare la ricerca se non ci fosse a monte la risposta organizzata di famiglie di famiglie di famiglie che hanno colto nel bisogno del figlio la istanza più forte da cui deve partire la buona politica ma c'è sempre il bisogno reale quello che orienta le scelte se voi ci aiuterete noi ci impegniamo in questo anno a ottenere intanto vi faremo avere a tutti coloro che sono presenti qui non so se c'è nella cartelletta dovrebbe esserci nella vostra cartelletta la mozione che è stata approvata dal governo quindi voi potete leggerla nel senso più affettuoso del termine potete anche correggerla potete dirci questo va bene questo non va bene a questo avreste dovuto aggiungere anche questo e noi cerchiamo di lavorare in questa linea rafforzando i motivi più forti per premere sul governo è di moda in questi giorni lo avete sentito dire al senato il tema delle lobby il tema delle lobby esterne si vuole limitare in qualche modo l'affluenza delle lobby esterne come strumento di pressione sui processi decisionali del Parlamento ma noi siamo la più grande lobby interna che si possa immaginare perché se il Parlamento non funge come una grande lobby che assume come sfida prioritaria l'interesse dei pazienti non ha nemmeno ragione di esistere l'interesse dei pazienti in questo caso l'interesse dei cittadini in senso più alto quindi noi lavoreremo con voi sul nostro sito cercheremo di mettere anche le iniziative che voi ci manderete in modo che possano costituire un punto di confronto di convergenza vi ringraziamo vi confermiamo questa cosa siamo sul piano dell'ascolto ma non un ascolto inerte e non un ascolto passivo vi vorremmo dire esattamente quello che dite voi siete pochi siete rari ma siete tanti ma noi vogliamo dire che anche il Parlamento sembra fatto sembra raro il parlamentare che si interessa davvero degli interessi dei cittadini ma non è vero siamo tanti anche noi e quindi se riusciamo a fare questa come dire alleanza positiva forse forse riusciremo a dare davvero una dimensione diversa a questa nostra situazione che è una situazione di grande disagio di grande sofferenza sia da parte di chi chiede sia da parte di chi non riesce a dare e vediamo se la politica svolge il suo ruolo veramente di collante positivo è la nostra speranza guardate non crediate a livello parlamentare c'è un grande bisogno una grande esigenza di capire che cosa significa fare della buona politica noi oggi lo abbiamo intercettato in questo tipo di servizio e su questo vogliamo lavorare insieme grazie infinite grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti